Il precampionato della Carpegna Prosciutto Basket Pesero inizia con una vittoria inamichevole contro la Virtus Bologna. Al palacattani di Faenza nel primo test della nuova VL targata Maurizio Buscaglia, i biancorossi battono i rivali bolognesi con il punteggio di 73 a 69 dopo un finale punto a punto in cui le Vunere erano riuscite a rientrare in partita recuperando anche 15 punti di svantaggio subiti nel terzo periodo di gioco. Una VL che ha subito mostrato buone cose soprattutto per quanto riguarda la metà campo difensiva con un attacco che invece è ancora un po' imballato e che ha fatto però intravedere delle belle giocate soprattutto con Banfort e Tambone. Siamo rimasti abbastanza sul pezzo delle cose fatte in questi giorni, il posizionamento, certe rotazioni, certi movimenti riuscivamo, anche se la partita era tosta, a mantenere concentrazione nelle cose primarie che ci eravamo detti di cercare di fare tutti più volte e quando entravamo e uscivamo dalla panchina. Tra l'altro gradualmente, quindi avete visto anche nella distribuzione dei minuti, c'è un coinvolgimento di tutti, ci sono dei giocatori che poi arriveranno ad avere più minuti e altri che non hanno giocato che arriveranno a giocare. Tutti i lunghi sono stati bravi difensivamente, hanno coperto bene anche per cercare di lavorare fino al rimbalzo contro una squadra comunque fisica, al di là delle assenze abbiamo preso il rimbalzo, abbiamo cercato di combattere sotto quell'aspetto. Il fatto di aver probabilmente abusato un po' del palleggio non è colpa di nessuno, un po' la difesa forte di loro, poi il fatto che abbiamo ancora situazioni offensive che ci portano a fare quello, comunque a me l'atteggiamento difensivo è piaciuto e determinate cose che so che abbiamo lavorato mi sono piaciute. E invece sempre più vicino il rientro di Valerio Mazzola, out per infortunio dalla partita proprio contro Bologna del 26 dicembre scorso, ma che ieri ha svolto tutto il riscaldamento con i compagni, seppur senza essere della partita. Già dalla prossima settimana giocherà, quindi è stato soltanto un processo logico e giusto, si è allenato prima, si è allenato fino a ieri, lo sapeva, era tutto sotto controllo, insomma, non ci sono state ripercussioni particolari che hanno fatto prendere decisioni diverse. E nonostante fosse solo un amichevole, le sfide tra Pesaro e Bologna sono sempre fra le più sentite, come lo hanno dimostrato i tanti tifosi a Corsa-Faenza in una calda domenica d'estate. Bellissimo, anche perché tanta gente, anche perché non ci scordiamo il perché eravamo anche qui, la gioia di essere qui per ricordare momenti che sono meno gioiosi, e poi il supporto, il supporto si sente, ci sono dei momenti di difficoltà come è stato a un certo punto quando Bellinelli ha fatto quella striscia, quel momento, magari tu cerchi di andare avanti, cerchi di superare l'ostacolo, cerchi di risolvere un piccolo momento di crisi e ovviamente il tifo ti tiene su e il tifo ti tiene su sempre.